Salve. Ah, le voci sono vere. Entra, entra, entra. Non so se chiamarti Ajai oppure Adone. Quello sguardo pensieroso. La mascella virile. I vestiti sono più da esercito della salvezza, ma possiamo lavorarci. Ma chi sei? Sono Mumu Shiffon, sarto della corona nominato dal re del Kirat, sua altezza reale Pagan Min. Ma tu puoi chiamarmi signor Shiffon. È un vero piacere. Lavori per Min. Lavoravo. C'è stato un piccolo dissapore. Ha cercato di uccidermi. Mi sto nascondendo. Ma è acqua passata. Ora parliamo del futuro. C'è la settimana della moda del Kirat. Forse possiamo aiutarci. A te servono accessori, a me un modello. Vorrei fare di te il pezzo forte dell'ultima collezione. L'ho chiamata Combat Couture. Puoi che indossi questa roba? Questa? Sono solo esperimenti. No, solo i tessuti migliori per il figlio al prodigo. Ho passato anni a studiare il design funzionale in un'accademia parigina. Un indumento deve essere utile, prima che elegante. La forma segue la sostanza. Sulle braccia. Ho bisogno che recuperi materiali esotici. Pellicce, pelli, piume. Per accentuare quello che è il tuo lato primitivo. Ti invio i design e le posizioni. Spero che tu sappia usare la macchina da cucire come usiliarmi. Perché ho intenzione di darti un look feroce. Beh, non restare lì impalato. Il tempo vola. Torna qui quando hai pronte le mie creazioni.